Ieri sera è andato in onda Buoni o Cattivi, mi pare, un programma su Italia 1 abbastanza trash che però nascondeva qualche perla, qualche spunto di riflessione, soprattutto grazie alla presenza di Amy Schilla che ha rilasciato una bellissima intervista in cui ha parlato di tante cose. La parte che mi ha colpito di più quando lui parla del senso di responsabilità, cioè lui diceva, l'intervistatrice gli chiede se lui in qualche modo si fosse salvato dall'uso di droga ad esempio per una sorta di senso di responsabilità personale, lui dice no, più che altro la paura, l'ipocondria nel vedere amici magari bianchi cadaverici uscire da certe serate, sbiancare, svenire, Allora lì ho detto non voglio fare questa fine qui e allora mi son fermato perché il senso di responsabilità a 16 anni non puoi averlo e lui dice mi è venuto il senso di responsabilità quando son diventato padre. Mentre d'altro canto quando un genitore riversa sul figlio il senso di responsabilità il figlio poi difficilmente ce l'ha perché? Perché comunque viene compensato dal genitore quindi il genitore sta presso al figlio e il figlio fugge. Bene, d'altro canto il senso di responsabilità del genitore dato verso il figlio perde se stesso, quindi non ce l'ha verso se stesso. Questa è una metafora bellissima, è una metafora, un concetto bellissimo perché praticamente è la prova come nei rapporti umani, come nei sentimenti, c'è sempre uno che scappa, uno che rincorre. E che praticamente è un aspetto che effettivamente nella nostra generazione ha fatto la differenza. Genitori che sono talmente attenti all'essere genitori che smettono di essere uomini e donne, diventano solo padri e madri. Figli che sono talmente concentrati all'essere figli perché i genitori li trattano come tali che non riescono a diventare uomini e donne. Insomma praticamente è stato un concetto che mi ha proprio colpito e poi ha parlato di suo padre, di quanto comunque gli manca oggi non solo questa figura, gli manca quello che sarebbe potuto essere il fatto che il padre non ha visto la sua fama. Ma dice al di là della fama sterile e l'avercela fatta. Andavamo in piscina insieme, la piscina comunale, entravamo di nascosto, invece adesso ho la piscina a casa. E ho detto papà vieni e avrei voluto far suonare il piano ai miei concerti, magari l'avrei reso famoso, suo padre che era un artista. E quindi ha fatto tanta tenerezza mentre parlava di questi aspetti. E mi sono ricordato di questo bellissimo brano, Il King, dedicato proprio a suo padre. Che è un brano leggero, uno dice cavolo il padre devunto, un padre bipolare con tanti problemi. Un padre che comunque è stato un personaggio che ha creato anche imbarazzo perché col suo modo di essere stravagante, a volte proprio nella piccola realtà di personaggi così non ce ne sono molti. Quindi se succede qualcosa è lui, no? Io anche vengo da una piccola realtà di provincia e comunque a spezzoni i personaggi che fanno certe cose sono quelli, no? Si riconoscono e anche se magari lì per lì possono dar fastidio sono quelli che porti sempre nel cuore, sono quelli che ricordi con una risata poi un domani e che ti generano quella nostalgia. La canzone Il King è bella perché già da come parte il beat, da quelle note giocose a tratti, no a tratti, giocose proprio, però capito? Sono delle note che fanno capire che il soggetto di cui si sta parlando è proprio birichino, questo ti dà come sensazione. Perché comunque una persona bipolare alterna comunque l'essere a tratti, consapevole e l'essere comunque infantile. E questa è la bellezza che li rende così amabili. Il fatto che in loro ci rispecchiamo, rivediamo il bambino che è in noi. E Rinschila ha fatto una canzone in cui comunque esalta le gesta del padre. Nonostante l'esaltazione si percepisce comunque i dolori che ci sono stati dentro, ma che sono proprio soffocati dalla leggerezza con la quale viveva quest'uomo. E che comunque ha riportato, Rinschila si sente molto come suo padre ed è fiero di suo padre, ha un grandissimo ricordo di lui ed è veramente un racconto bello. Mi ricordo quando uscì con questo video, per me è comunque un piccolo pezzo rivoluzionario perché insomma era più facile da parte sua prendere la penna, mettere un piano drammatico e raccontare quello che è stato suo padre. Invece lui te la racconta così proprio, il king è mio papà, il king del quartiere, la fama mi precede in centro, guarda quello, il figlio di... Però non è come il figlio di... il figlio del politico, il figlio del ricco, il figlio del costruttore, no? È il figlio di quello lì che magari poco fa a 120 all'ora ha sfrecciato su una statina quasi schiaffato sotto due persone. E questo è un'altra tipologia di fama, che in quartiere ha una sua valenza e quindi è stata... Quando uscì mi ricordo che mi fece tanta tenerezza, però d'altro canto è una hit, è una bomba, è veramente una bomba. Cioè proprio, no me la sto riascoltando, da quando l'ho ripensata, non è che stiamo a parlare di una canzonetta, Ti metti là in cassa, in cuffia, chissà quello che sia, è pompa, è pompa di brutto. E questo è Amy Schilla del resto, un personaggio che ti sa raccontare cose drammatiche, con la leggerezza, stando un po' sopra le righe e poi invece ti fa magari mattonate, violente, oppure quando invece vuole essere serio, serio lo sa essere, ma anche qui nel King lo è, è un pezzo serio. Il fatto che lui sia capace di scherzarci sopra non vuol dire che non sia serio, anzi le più grandi verità si dicono scherzando e questo è un brano che nasconde grandissime verità del bambino, del ragazzo e dell'uomo Amy Schilla.